Una missionaria vera che ha saputo abbandonarsi pienamente all'amore di Dio sulla strada del servizio e della santità. Una giovane madre che ha dedicato la sua vita a consolare gli altri, in particolare i migranti, gli orfani, disoccupati, gli sfruttati, con uno sguardo attento, misericordioso e pieno di coraggio. Così il Papa ha ricordato Santa Francesca Saverio Cabrini nel primo centenario della sua morte. Alle missionarie del Sacro Cuore, incontrate in Vaticano, Bergoglio ha chiesto di imitarne il carisma, di essere fedeli alla sua missione, imparando soprattutto a cogliere i segni del tempo per dare risposte concrete di fronte alle nuove forme di povertà e di violenza. Il suo carisma è di un'attualità straordinaria perché i migranti hanno bisogno certamente di buone leggi, di programmi di sviluppo, di organizzazioni, ma hanno sempre bisogno anche e prima di tutto di amore, di amicizia, di vicinanza umana. Hanno bisogno di essere ascoltati, guardati negli occhi, accompagnati. Hanno bisogno di Dio, incontrato nell'amore gratuito di una donna che, col cuore consacrato, ti è sorella e madre. Signore, rinnovi sempre in voi lo sguardo attento e misericordioso verso i poveri che vivono nelle nostre città e nei nostri paesi. Oltre alla sua docilità e alla spiccata azione apostolica, Francesco ha messo in risalto la vita vertiginosa della Santa, carica di lavoro, di viaggi a non finire, e 67 opere tra asili, scuole, collegi, ospedali, orfanotrofi, nati dalla sua missione, tutto per propagare la forza del Vangelo. Grazie a tutti.